Ciao a tutti ragazzi, io sono Andragamer e benvenuti su questo ultimo episodio su VRChat, episodio 2, che forse è l'ultimo, ecco. Allora, volevo andato a dirvi di mettere un mi piace, iscrivetevi al canale, attivare la campanellina per non perdervi un altro video in un altro gioco e iscrivetevi qualche commento. Allora, volete sapere dove mi trovo adesso? Forse in una specie di foresta, specie, specie di foresta, io non so perché ci sono tantissimi giocatori qua, devo anche smutarli, mi sa che li ho fatti parlare tutti. Ok, allora, possiamo anche andare qua, andare qua, andare qua, andare qua, andare qua, andare qui e andare qua. L'ho spaventato Che gentili Oh guardate Ghiaccio Ghiacciaio Mi state chiedendo chi sono adesso Un robot ovviamente Guardate La sto buttando via Ok Ed ecco Si è teletrasportato ma adesso Riproviamo No 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 Ok Riproviamoci Ok Ok No Troppo distante Ok riproviamo 3 2 1 I No Un'ultima volta eh 1 2 E 3 No Sono così Gnubbo Allora Sono così Gnubbo I No 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 Devo lanciare sempre a distante Allora I No Riproviamo un altro I Ragazzi Ragazzi guardate Umbiti I Riprovo eh I Guarda Ci abbiamo anche un amichetto I Si sta chiedendo come ho fatto lanciarlo dall'altra parte Riprovo eh I Ragazzi Questo gioco è più difficile Come ho fatto da grapparsi Ragazzi Ma se non ne manco visto A proposito di lanciare cubetti di ghiaccio senza motivo possiamo anche toglierli Allora A proposito di cubetti di ghiaccio Andiamo a vedere altri mondi Ecco Scusate No questo non è un mondo Forse qua Mi sembra una casa Allora andiamo qua E adesso ci tocca aspettare Perché non saremo nel mondo Caricati 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 Carica Oh Finalmente Ho schiacciato il go E finalmente ha caricato E adesso che cosa potrebbe succedere? Oh mio dio Che bella stanza però Perché si crasha tutto? Perché? Allora ragazzi Allora mi ha fatto crashere il gioco e anche la mappa E quindi ho pensato di scegliere un'altra Ma un altro luogo Allora Spirit Speak Game Black Cat Japanese Jane Boh non so Mordor 2 Summer Solitude The Great Pug West Io vado qua Ovviamente che vado qua Ok spero che non me lo crash Spero che non mi crasha la mappa Spero che non mi crasha la mappa Ok allora C'è tanta gente qua come una bestia Allora Dovrei smutare tutti Ok ragazzi ho smutato tutti Quindi possiamo anche andare di sopra Allora Allora qua Chi c'è qua? Chi c'è qua? Nessuno? 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 Ok allora Posso anche salutare persone C'è tipo qua Non so ragazzi perché non mi saluta nessuno Proprio con lui Hello Ok molto easy Potete dire hello a qualsiasi partecipante Ah potete anche sedervi Guardate che figata Guarda io mi mangio questo Ragazzi allora direi di uscire da qui Ma siamo anche lo stesso all'entrata Figata allora guardate questo panorama Davvero una figata assurda Non so se mi ha fatto togliere la mappa Ma comunque Comunque una figata assurda Ok ragazzi Direi che questo video su VRChat episodio 2 finale Lo posso anche concludere qui Andrea Gamer vi saluta E noi ci vediamo per il prossimo video Ciao ragazzi Ciao